La tassa riunisce il Consiglio dei Ministri, no? Allora ha detto che c'è da mettere una nuova tassa, un'altra tassa, che cazzo li tassiamo? L'aria, io ho tassato, no? Ha detto, io ci ho pensato stanotte, quando fanno questi nomi del gabinetto e che cazzo le faranno? Va bene, allora ha detto, mettiamo, chi ha l'amante deve pagare una sopra tassa. E' una bella idea, ma come fanno? Una tantum, no? Più l'amante è buona, più la tassa è alta. Tipo, c'hai, ho pensato a tutto, cioè, tra di te, c'hai un'amante come Belè Rodriguez, 50.000 euro di tasse all'anno, non te le leva, non te le leva. Poi, c'hai un'amante tipo come, dai, quella che c'ha con il programma finto, con le poce finte, con la risata finta. Barbara D'Urzu, il corpo, o un finto venuto ve, o 20.000 euro di tasse all'anno, non te le leva nessuno. Allora uno dell'opposizione fa, alza la mano, ha detto, scusa, ma a mente che uno c'ha un'amante come Rosi Bindi, ha detto, non cominciamo a parlare dei rimborsi. Sì, 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 sì.